L'europeo e l'africano La prima sera l'africano, girandosi di scatto, vede l'europeo che si spalma le parti basse con una crema. Domam da cosa sia e lui risponde che si tratta di vaselina, così avrà in meno male durante l'introduzione. Per parecchie sere di seguito è l'europeo che vince e la scena si ripete. Poi una sera vince l'africano ed è l'altro che si deve mettere a 90 gradi. Ma quando si gira per vedere cosa fa lo vede che si spalma con una strana sostanza e chiede cosa sia. E lui risponde, è delvix, così avrai meno male alla gola.